buongiorno bianconeri sabato 9 luglio 2022 eccoci di nuovo qui dopo l'ultima live bellissima che ho fatto con gli amici luca gramellini guido tolomei e mirco nicolino per parlare delle ultime news di calce mercato sono venuti fuori degli spunti molto interessanti soprattutto sul futuro di alvaro morata e sull'eventualità di un nuovo grosso colpo a centrocampo per la juventus se vi siete persi la live la trovate sul mio canale oggi che cosa di che cosa parliamo beh ragazzi non posso iniziare questo video di calcio mercato news senza citare questi ultimi due giorni di fuoco ieri il di maria day di maria arrivato finalmente al j medic alla continassa ha fatto le visite ha firmato il contratto è stato fatto vedere a tutti il comunicato ufficiale che però non parla di cifre legate allo stipendio i comunicati ufficiali non parlano mai di queste cose però ci sono scritti gli oneri accessori quindi riepiloghiamo un po per i distratti di maria farà un solo anno con la juventus non è prevista l'opzione per il secondo anno in questo momento a meno che ripeto non è scritto nel contratto ma non è ufficializzato al pubblico guadagnerà 5 milioni e mezzo netti al in questo anno più un milione e mezzo di bonus legati alle sue presenze ai suoi obiettivi personali e gli obiettivi di squadra agli agenti vanno un milione e tre ed è l'unica cifra esposta pubblicamente sul comunicato oggi invece ha fatto le visite mediche paul pogba finalmente pogback dopo tanti anni che se ne parla io sono contento è inutile che continuo a ripetervelo sapete benissimo il mio punto di vista sia su di maria che su pogba ma mi aspetto altro ok quindi sono contento ma mi aspetto altro pogba ancora io sto registrando a metà pomeriggio non è ancora uscito il comunicato ufficiale penso che uscirà in serata conosceremo le cifre soprattutto la cifra che andrà alla scuderia raiola barra pimenta perché lo stipendio di pogba non sarà pubblicato ma dovrebbe essere sugli 8 milioni netti più 2 di bonus ma lo scopriremo in serata qui squiglie che cosa ci dobbiamo aspettare ragazzi dai prossimi giorni partiamo subito dal big name in uscita mattais delict purtroppo purtroppo è una cosa che mi rattrista perché mai avrei pensato di passare quest'estate a parlare della cessione di mattais delict sapevo già dall'estate scorsa che c'era in ballo rinnovo sapevo già dall'estate scorsa che qualora la juve avesse ha consentito a diminuire la clausola recessoria si sarebbe aperta la separazione perché era l'anticamera della cessione questa cosa per chi di voi mi segue da tanti mesi nonché da un anno la sa benissimo e in effetti ci siamo ritrovati in un momento in cui mattais delict si è rifiutato di firmare un rinnovo con la juventus e sostanzialmente ha chiesto la cessione ha mostrato tutto il suo interesse volontà di lasciare la juventus non ne ho ancora parlato approfonditamente il mio pensiero ragazzi è che se i campioni molto spesso decidono di lasciare la juve io mi ricordo danni alves che fece solo un anno poi scappò tevez che dopo due anni andò via sbattendo quasi la porta in faccia d'allegri cristiano ronaldo sappiamo il suo malumore ora delict insomma qualche domanda conviene farcela perché mattais delict deve lasciare la juve proprio in questo momento in cui la juve sembra rinforzarsi è una domanda qui nessuno di noi ha una risposta perché purtroppo nessuno di noi ha modo di parlare direttamente con mattais delict e quindi non non sapremo mai i veri motivi pare che comunque lui non sia convinto del progetto tecnico io non lo so quanto questo possa essere legato al nome di massimiliano allegri o meno secondo me è anche un po il prestigio non tanto della juventus che è un ottima un ottimo club stimato in tutto il mondo ma è il prestigio della serie a che negli ultimi anni purtroppo non è stata al passo dei tempi e si è fatta scavalcare in prestigio uso ancora questa parola per esempio dalla bundesliga stessa noi stiamo perdendo telespettatori fan nel mondo purtroppo è la verità non solo perché siamo sempre poco competitivi a livello europeo tutti parlo di tutte le squadre ma perché proprio come prodotto televisivo sappiamo della bassa qualità anche di chi trasmette le partite nel nostro paese veramente poca poca roba l'italia ha bisogno di uno scossone altrimenti i campioni andranno via due campioni sono tornati di maria o meglio sono venuti tornati nel senso che qualche campione è tornato nella serie a cioè di maria e pogba che alzano livello enorme di questo campionato ma quali altri campioni ha la serie a a un ibrahimovic a fine carriera a finissima carriera c'è un lukaku se chi di voi lo considera un campione un big name di fama internazionale ma poca roba cioè siamo non siamo minimamente paragonabili a una premier league ma proprio siamo anni luce dobbiamo fare qualcosa la politica del calcio italiano deve intervenire ho fatto questo discorso un po politico diciamo così perché secondo me dietro le motivazioni di del ict appunto ci sono c'è questa insofferenza nel giocare un campo in un campionato ormai quasi minore diciamo così sì in una juventus che però ragazzi del ict non ha dimostrato probabilmente quello che ci si aspettava perché tre anni fa abbiamo preso quello che poteva diventare il miglior difensore del mondo ma negli ultimi tre anni insomma le prestazioni non sono sempre state ottime ma io la colpa non la do a del ict ragazzi io la do alla juve stessa perché in tre anni tre allenatori quindi tre progetti diversi anche tattici la dirigenza è cambiata radicalmente insomma un terremoto ogni anno ripartire da zero la juve non l'ha messo in condizione di giocare degnamente anche il fatto che lo stesso chiellini che avrebbe dovuto fargli da insegnante a detta del compianto minoraio la purtroppo con tutti gli infortuni che ha avuto non c'è mai stato in campo e quindi del ict è stato praticamente buttato nella mischia appena si è ripreso dall'infortunio alla spalla poi non ne parliamo insomma del ict che cosa succederà del ict in questi due giorni si sta scaldando enormemente l'offerta del bayar monaco che sembra in questo momento essere in pole position per portarsi a casa del ict perché del ict pare voglia andare al bayar monaco il bayar monaco dovrebbe aver fatto un'offerta che raggiunge i 90 milioni netto più bonus per la juventus la juventus ci sta ragionando e ovviamente la juventus nel frattempo si è attivata per il sostituto stiamo sentendo ovviamente parlare tutti i giorni ultimamente di calidu culibali che non rinnova con il napoli ci sono ovviamente problemi ambientali forse già oggi verranno sciolte le riserve dal presidente dell'aurentis che si esprimerà sulla sua visione su culibali io credo che culibali è un nome ovviamente da tenere super monitorato e super caldissimo attenzione al piano b anche se potrebbe essere offensivo che è quello di bremer del torino perché in questo momento non è ancora un giocatore dell'inter come tutti dicevano e l'inter sta facendo fatica a fare il contratto a bremer così come di bala che l'ha completamente abbandonato pare in questo momento perché l'inter dopo aver ufficializzato tre acquisti deve comunque iniziare a vendere assolutamente per necessità ma non lo sta facendo e di conseguenza bremer non sta chiudendo con l'inter in questo momento e secondo me finché finché il torino non chiude con l'inter l'affare bremer attenzione alla possibilità della juventus io dico ragazzi a differenza di molti altri che la juve farà un centrale difensivo se va via mattais delict potrebbe farne due se va via anche daniele rugani altrimenti non vedo veramente la possibilità di prendere addirittura due centrali di difesa con un'uscita che è quella di mattais delict vi posso dire due cose ragazzi subito prima che me ne dimentico sembra che hanno detto a rugani e ad alexandro che sono entrambi fuori dal progetto juve di conseguenza è solo questione di tempo la juventus cercherà di vendere rugani già quest'estate è difficilissimo piazzare alexandro secondo me non si muoverà prima di gennaio ad ogni modo addirittura c'è il rischio rischio sapete che è un commesso fondato una porta aperta che alexandro venga escluso dalla lista champions ma ne parleremo quando succederà questo per dire cosa che ci sono dei giocatori che la juventus ovviamente deve vendere ci sono dei giocatori che la juventus già considera fuori da ogni progetto è solo questione di tempo quando non si sa quest'estate gennaio l'estate prossima lo vedremo è solo questione di tempo un'altra cosa che vi invito a fare così come ho scritto nel mio gruppo telegram così come ho scritto su twitter attenzione alla possibilità di uno scambio clamoroso tra adrien rabiot e paredes del paris saint germain attenzione veramente a questa cosa perché si sta scaldando in tantissimi sensi e ci sono un sacco di segnali che portano a questa possibilità quindi attenzione allo scambio rabiot paredes ok che è una possibilità l'ultima cosa di cui vi parlo è zagnolo come vi sto sempre dicendo zagnolo è un obiettivo super super bollente per la juventus a differenza di altri io non lo vedo già un giocatore della juventus nel senso che so benissimo che ha già un accordo con la squadra ma manca ovviamente l'accordo economico con la roma che è quello che conta più di tutti non mi risultano contropartite per zagnolo sul tavolo così come non mi risultano contropartite per matthias delict ok quindi per zagnolo stiamo parlando di lui potrebbe prefigurarsi l'opzione del prestito annuale più obbligo di riscatto prestito di un anno perché ovviamente prestiti di due anni non se ne possono fare più dal primo di luglio quindi attenzione alla pista zagnolo se la roma apre la cessione apre la possibilità di farci un prestito oneroso ovviamente 10 15 se non addirittura 20 milioni di prestito più la rata del saldo finale che è l'obbligo di riscatto la juventus prenderà zagnolo poi se lo prenderemo avremo tutto il tempo di discutere dove giocherà 4 2 3 1 dietro alla punta insomma lo scopriremo in questo momento dobbiamo essere focalizzati sui nomi non solo in entrata che sono quelli che ci appassionano di più ragazzi ma anche in uscita la juve deve ancora vendere parecchia roba siamo pieni di giocatori allegri non può ritrovarsi agli allenamenti con 30 35 40 giocatori da allenare la juve deve essere scremata ok finora come ci stiamo muovendo mi sta piacendo moltissimo secondo me siamo arrivati troppo lunghi non ho paura a dirvelo ve l'ho già detto tempo fa non è che adesso perché abbiamo preso Pogba e Di Maria sono diventato l'uomo più felice dell'universo i problemi e i difetti di certe parti del campo rimangono quindi io sono ansioso di vedere come la juve risolverà questi problemi per quanto mi riguarda ci sono ancora tante pedine che devono essere prese si parla di cambiaso terzino sinistro vedete che la cosa sta andando a rilento perché dragosi non ha ancora dato il suo ok al trasferimento al genua ma pare che comunque la juve cambiaso lo prenderà lo stesso ma c'è la possibilità che lo giriamo in prestito quindi insomma una telenovela infinita molina molina ve ne ho parlato recentemente la juve sta facendo veramente offerte all'udinese per portarsi già a casa molina perché perché ovviamente quadrado è in uscita quadrado anche lui l'ultima stagione massimo farà la juventus se non addirittura qualcuno ipotizza la possibilità di venderlo adesso io non so se sarà possibile venderlo quest'estate ve lo dico sinceramente però la juve già si sta parando le spalle prendendo molina insomma il gioco dei terzini danilo potrebbe fare da centrale di difesa gli argomenti sono tantissimi farei un video di 38 minuti ma sono già arrivato lunghissimo quindi in conclusione contentissimo di di maria contentissimo di pogba la juventus sta ritornando ieri sera ho ricevuto un messaggio da un giornalista molto importante che mi ha scritto la ju la ju e non è juventino la juventus sta tornando quella che conoscevamo ok dobbiamo essere orgogliosi della nostra squadra ma il mercato è lungo ci sono ancora quasi due mesi di mercato ragazzi pensate un po quasi due mesi ancora di mercato di conseguenza ne vedremo delle belle dobbiamo assolutamente aver fiducia nella nostra società poi e concludo veramente come ho sempre detto io non sono un grande fan delle squadre figurine tipo il pari san germain che poi non vincono niente o perlomeno vincono il loro campionato ma senza rivali io sono per una squadra con un progetto fatto con la testa fatto come si deve che abbia un senso che abbia un gioco chi gioca se gioca fagioli o gioca pogba a me non mi interessa a me da tifoso da divano mi interessa il risultato mi interessa anche il bel gioco perché secondo me io sono un po all'antica sono un po alla gianni agnelli che amava il bel gioco io sono quel tipo di tifoso bianconero io spero di vincere giocando bene ok perfetto questo è chiaro ragazzi grazie di avermi seguito quindi teniamo monitorata la pista culibali se non è culibali e bremer attenzione questi sono i nomi più caldi molina cambiaso zagnolo e la seconda punta il vice vlaovic io vi ridico ancora simeone è la quinta volta che ve lo ripeto secondo me sarà simeone secondo me arnautovic non lo prendiamo ma questo mio pensiero magari sbaglierò lo scopriremo ci vediamo molto presto e sempre forza juve